Sempre più italiani acquistano online e nel 2013 il mercato dell'e-commerce in Italia farà segnare un aumento del 20% e la previsione che arriva da eBay Italia. eBay Italia all'interno del portafoglio di eBay in Europa rappresenta il terzo paese dopo il Regno Unito e Germania. I numeri sono numeri importanti con 10 milioni di utenti unici, 850 milioni di pagine viste, 22 mila venditori professionali, oltre 25 milioni di oggetti venduti ad oggi sulla piattaforma. È una realtà importante nel panorama dell'e-commerce e anche del commerce in generale in Italia ed è una realtà in continua crescita e in continua evoluzione. E dal commercio elettronico arriveranno anche nuovi posti di lavoro. Le professionalità che stiamo cercando non sono così facili da trovare sul mercato italiano e abbiamo un obiettivo molto importante anche dal punto di vista di selezione dei talenti. Però stiamo parlando di figure che permetteranno a eBay di sostenere una crescita anno su anno che sarà in linea con la crescita del mercato, che noi stimiamo a essere intorno al 20%. Sono figure, tra l'altro figure professionali per le quali è richiesto preferibilmente un MBA, è richiesto avere anche competenza online, e-commerce, mobile e social.